Benvenuto ai Raw Power, ciao ragazzi, benvenuti Ciao a tutti Ho qui Giuseppe che sei il capo della chitarra Sei il capo, è il membro fondatore Membro fondatore, per quanto riguarda la chitarra E Mauro è il voce e poi scrive anche testi Parliamo immediatamente della vostra nuova O.P. Too Tough to Burn Che praticamente esce dopo un anno e mezzo, due anni Da vostra precedente che era esclusivamente live, giusto? Cosa è successo questo anno e mezzo? Pensieri? Problemi? Tangenti? No, tangenti no Qualche cambio di formazione Fino ad arrivare a questo disco Che è stato il lavoro di un anno e mezzo Crediamo di aver fatto un buon lavoro Dunque, voi siete stati i primi Se vogliamo dire gli iniziatori Una parola così formale che mi piace In un certo filone musicale Che è l'artcore E credo che siete rimasti anche gli unici Di un certo livello, cioè famose Perché molti sono veramente spariti Ora, una domanda che credo sia importante per il nostro pubblico Cos'è l'artcore music? L'artcore è stato, diciamo Credo che sia L'estremo del primo punk Diciamo Che veniva da Londra E poi dopo è arrivato L'andata californiana Che l'ha chiamata hardcore Perché era più veloce rispetto a quello che veniva da Londra Diciamo via E noi abbiamo un po' fuso le cose Mettendoci in mezzo anche delle altre influenze metal O ancora prima Abbiamo fatto le nostre musiche Insomma, ecco Perfetto Allora, prima di andare avanti Con la nostra chiacchiera Direi di far vedere immediatamente il video Che sentite la You Can't Stop Me Tu non mi puoi fermare E vediamo perché dopo Ok Allora, parla, you can't stop me